Ciao a tutti sono Lilian Jaramillo e in questo video ti darò la mia opinione sul trattamento alla queratina della siena, una maschera che aiuta a riparare i nostri capelli e anche a rinforzare. Prima di iniziare ti ricordo che tutti i miei libri pubblicati con le case editrici San Paolo e Franco Angeli li puoi trovare nelle librerie anche online. La queratina è una proteina che rende vigorosi e sani i capelli, unghie e peli. La mancanza nel corpo può provocare un indebolimento dei capelli, una secchezza dell'epiderme e una crescita rallentata delle unghie. Ci sono dei trattamenti liscianti alla queratina. Se andate sul mio canale sulla pagina principale troverete il video di quando ho fatto i miei capelli lisci con il trattamento alla queratina. Questo trattamento della siena non è per lisciarli, piuttosto per ripararli, si sono danneggiati e per farli diventare forti. Adesso vedremo come applico questo prodotto sui miei capelli. Ho notato che questa maschera ha un effetto progressivo. Quando l'ho applicata la prima volta ho ottenuto dei risultati, ma man mano che la applico sto vedendo che i miei capelli stanno migliorando di più. Dopo aver lavato i vostri capelli con lo shampoo, togliete l'umidità con un asciugamano e dopo applicate generosamente la maschera dalla metà dei vostri capelli fino alle punte. Sulla confezione dice che è un trattamento intensivo che bisogna lasciare soltanto per due minuti. Dopo possiamo sciacquare i nostri capelli con acqua tiepida come se avessimo usato un balsamo. Non bisogna usare di nuovo lo shampoo. Adesso posso pettinare i miei capelli normalmente e asciugarli con il fondo. Vi farò vedere la differenza della prima applicazione e della seconda applicazione. Questi sono i miei capelli dopo la prima applicazione della maschera. Sono migliorati moltissimo anche se ancora si vedono le punte un po' rovinate perché io già ce le avevo rovinate perché le avevo bruciato con la piastra. Tuttavia sono migliorati molto. Questi sono i miei capelli dopo la seconda applicazione della maschera. Si vede che sono migliorati ancora di più. Le punte non si vedono così rovinate come prima. Adesso voglio farvi vedere la differenza tra la prima applicazione e la seconda applicazione del prodotto. Questa maschera non ha un effetto immediato. Più la usiamo più vedremo i cambiamenti sui nostri capelli. Questo prodotto mi è piaciuto e sicuramente lo comprerò di nuovo. Amici spero vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale, lasciate il campanellino delle notifiche accese e ci vediamo in il prossimo video. Adios amici!